Andiamo sicuramente in un campo molto ostico contro una squadra difficile da affrontare perché comunque ha nell'organico alcuni giocatori importanti ma è una squadra che gioca con impeto quindi dovremmo farci trovare pronti sotto questo aspetto, sotto l'aspetto della determinazione, dell'aggressività, dell'attenzione all'interno della gara. Questa è una delle condizioni fondamentali per fare una prestazione importante per fare il risultato a Cosette. Ci migliorerà sicuramente da questo punto di vista, Antonio Comosco sta bene nel senso che lo vedo golioso del desideroso di rientrare. Abbiamo deciso di non portarlo questa partita perché voglio lasciarlo qui a lavorare.